story time evoluzione radio ben ritrovati cari amici e amiche di story time la piattaforma radiofonica di canale italia io sono max mose vi do il mio personalissimo benvenuto bentornato in trasmissione lo potete vedere qui al mio fianco davide pianegonda lui è professore d'orchestra e anche insegnante fa corsi di tromba parleremo della tua realtà della tua passione anche tra pochissimo lo faremo prima però ti do il benvenuto ciao davide grazie mille grazie per avermi invitato qui a tutti voi di story time grazie a te max per intervistarmi ma guarda grazie per essere qui e aver accettato il nostro invito certo abbiamo detto ci facciamo una chiacchierata come davanti allo spritz ci vorrebbe ci vorrebbe molto volentieri dopo dopo anche perché l'orario dai stiamo registrando in un orario in cui ci starebbe anche bene sì ci sta ci sta facciamo un passo indietro allora professore d'orchestra effettivamente io se penso all'orchestra penso a un sacco di vecchie un ambiente un ambiente di in realtà è pieno di giovani è uno stereotipicissimo sì a padova c'è l'orchestra di padova del veneto a vicenza c'è il teatro olimpico in veneto abbiamo tante orchestre professore d'orchestra è semplicemente un musicista che ottiene un diploma in uno strumento e una laurea e dopo di che si si approccia alle varie orchestre alle varie orchestre ce ne sono tante di vario genere e questo è un professore d'orchestra certo il tuo strumento in particolare è la tromba io sono io sono un stato un po per caso ma diciamo che adesso mi sta portando qualche qualche soddisfazione più di qualche soddisfazione e quindi sono qui proprio per presentare questo mio progetto ma certo ma guarda volentieri anche perché pensando alla tromba io ho sempre ritenuto uno strumento difficile è effettivamente più complicato rispetto ad altri è considerato uno strumento difficile ma semplicemente magari perché non è come la chitarra un pianoforte che magari con la chitarra fai un movimento della mano e beh anche col pianoforte in realtà delle dita e produce automaticamente un suono con la tromba non è così ma di per sé in realtà io dico sempre ai miei ragazzi come sputare dentro lo strumento perché proprio fai una una vibrazione come fare una pernacchia fai così e poi produce un suono quindi di per sé forse ancora più facile poi ci sono tre pistoni c'è certo però la parte più difficile per imparare forse il modo in cui soffiare dentro dentro la tromba ed è infatti qui che che torna utile questo canale questo sito che ho creato perché tramite il canale tramite il sito ci sono a disposizione sul canale youtube oltre 300 tutorial 300 video che sono tutti gratuiti ovviamente è uno basta che vada lì e comincia a studiare e poi invece sul sito ci sono tutta una serie di articoli ci sono oltre 200 articoli che spiegano come approcciarsi anche a livello della respirazione non solo quindi gratuitamente ma poi c'è la possibilità anche di contattarmi se uno vuole perché dice chiaramente sì ho capito magari però ho delle difficoltà come faccio non è che ti lascio lì allora mi puoi contattare possiamo fissare delle video lezioni ci sono anche dei video corsi che uno dice no vabbè dai penso di aver capito acquisto il video corso vado in autonomia poi comunque dentro il video corso puoi comunque fare la lezione online che è già inclusa certo e quanto quindi essere seguito dalla alla z ovviamente questo per chi è interessato alla tromba tu mi hai detto che ci sei arrivato un po per caso anche qual è stato un po il tuo percorso ma allora io ho cominciato quando avevo otto anni solo con la teoria musicale e dopo di che ho cominciato con la tromba dopo un paio d'anni ho cominciato suonare la tromba e avevo sentito un cd di rondo veneziano questo gruppo dove tra l'altro suonava anche ogni tanto il mio insegnante dell'epoca e uno di quei brani c'aveva il trombino che una tromba piccola molto piccola tipo un giocattolino e io mi sono innamorato di questo strumento mio papà fra l'altro a casa c'aveva una tromba perché anche lui suonava la tromba nella banda del paese e quindi ho cominciato a suonare e poi da lì insomma conservatorio accademie un fatto il conservatorio a vicenza un'accademia a parma una bologna e quindi diciamo che poi le cose sono arrivate automaticamente certo la formazione non ti è mancato effettivamente è anche molto importante formarsi per poi inserirsi all'interno di quella che è la realtà perché si inserisce bene la tromba nella banda ma soprattutto anche nell'orchestra assolutamente sì bello la tromba in tutte le orchestre è uno è uno strumento leader la tromba fa parte dei fiati fa parte dei fiati macro famiglia dei fiati sì 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 ma certo perché poi uno dice fa parte dei fiati e dici il sax ad esempio fa anche parte dei fiati il sax sì è un legno però però è un legno il sax esatto e la tromba è invece un ottone ah ok c'è una sotto... sì ci sono delle sottocategorie diventa complicata diventa complicatissima però insomma sezione fiati si inserisce molto bene se qualcuno è interessato appunto abbiamo parlato dei corsi c'è la possibilità qual è il modo migliore anche per avvicinarsi a quelli che sono i corsi e anche se ci sono dei consigli per avvicinarsi nel modo meno traumatico possibile alla tromba sì ma allora sicuramente il consiglio che do sempre è quello di capire perché uno vuole suonare la tromba cioè uno lo vuole suonare perché lo vuole fare di passione o eventualmente magari un giorno vuole entrare a suonare in un qualche sei in qualche complesso in un qualche band perché in quel caso lì uno già parte che dice ok vado a fare subito lezione con uno bravo se invece uno lo fa magari per passione che vuole solo magari si compra anche uno strumento magari di... che costa meno no? che chiaramente... un entry level un entry level allora in quel caso lì appunto è possibile tranquillamente seguire questi video che sono... non sono l'unico in Italia che fa questo genere di contenuti gratuiti però in quel caso lì va benissimo anche questo genere di formazione è una formazione da autodidatta si dice tu segui i video che sono gratuiti nei vari social di questi trombettisti come me che li pubblicano e dopodiché da lì impari se però chiaramente uno ha l'ambizione di fare qualcosa di più assolutamente il consiglio è non prendete cattivi... cioè dei difetti abitudini abitudini perché un difetto qua un difetto là poi diventa un'abitudine sbagliata che poi l'abitudine sbagliata non si corregge bisogna crearne una di nuovo dall'inizio che vada fra virgolette a sovrapporre a quella preesistente una volta che hai preso un'abitudine sbagliata rimane certo no no assolutamente quindi ci sta per iniziare poi ovviamente quando... sì per iniziare va tutto bene poi se uno ha l'intenzione di fare le cose serie assolutamente andare con un professionista essere seguiti bene certo per seguire i tuoi corsi io vedo qua che sei innanzitutto su facebook quindi corso di tromba su facebook e anche su youtube corso di tromba lì già ti diamo una bella spiata tra virgolette nel senso buono adesso sicuramente mi farò anche instagram perché chiaramente... è importante è importante c'è instagram è importante io non ho tanti social però per lavoro vedo che in effetti sono molto utili utili oppure magari per gli amici meno social info chiocciola corso di tromba tutto attaccato punto com ed il sito corso di tromba tutto attaccato punto com lì ti contattano direttamente e si tirano via qualsiasi domanda dubbio poi c'è anche un'opportunità extra per chi magari invece non è interessato propriamente a imparare a suonare la tromba ma chi desidera invece vedere come opportunità diciamo più di investimento attualmente io ho già creato un team sono già in contatto con a livello informale chiaramente sono già in contatto con dei professionisti per avviare una start up a livello musicale sempre chiaramente inerente così con i videocorsi quindi se dall'altra parte chi ci ascolta è un investitore e ha l'intenzione eventualmente di valutare proposte insomma in ambito musicale di tromba in particolare io sono qui certo i dati ci sono è un progetto che abbiamo già fatto le ricerche di mercato siamo già seguiti da un business manager quindi abbiamo già sondato che il mercato esiste ci mancano solo per le idee importanti ci sono anche bisogno di capitali importanti è certo l'avvio diciamo poi è tutto sul ghiaccio i tuoi contatti sono passati in sovraimpressione durante tutta la nostra chiacchierata quindi se qualcuno vuole andarsi a dare un occhio ai tuoi social ai tuoi contatti lo può fare tranquillamente dovendoci salutare Davide io ti ringrazio tantissimo per essere passato qui a Storytime grazie a te hai portato un pezzettino della tua realtà anche qui da noi grazie mille io ti faccio i miei più grandi auguri e in bocca al lupo per il futuro e sai che quando i progetti e la start up sarà effettiva io ti riaspetto più così eh me la racconti no certo grazie mille a te grazie a Storytime e grazie a chi ci sta guardando certo ciao grazie Davide grazie Storytime evoluzione radio grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti